Oggi è il 25 dicembre, sono stato tante volte in viaggio per terra e per mare, proprio in questo giorno unico all'anno, lontano dai parenti e dagli affetti, sempre alla ricerca di un sogno con un viaggio, da solo o in compagnia, e quindi vi auguro dal profondo del cuore un buon Natale a tutti.